E tu sei diventata mamma a 23 anni, Claudio è diventato papà a 23 ma ha capito di essere papà davvero a quanti anni? Dopo, ora, cos'era oggi è? Mercoledì, tre giorni fa. Sì, 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 sì. Paura, preoccupazione, tutto insieme. Posso tornare sul brucomela, per favore? Mi piaceva così tanto. È possibile che cambi umore così in fretta? Riesco pure a piangere per le pubblicità delle lavatrici. Tutte cose che i papà non possono capire. O meglio, le possono subire. Ma è vero che i padri diventano padri solo quando tengono in braccio per la prima volta il loro bambino? Già me lo vedo, Loris, con la piccola tra le braccia. È meglio che non ci penso perché se no piango di nuovo. Chissà se sarà un padre presente. Beh, sicuramente. Anzi, non altra scelta. Questa è una puntata di Mamma Dilettante molto speciale perché è una puntata dedicata alla terapia di coppia per i coniugi malchissimo. Ciao Claudio, ciao Robi. Ciao Odile. Un po' di tensione c'è, sono sincero. Non sono abituata a fare queste... Mi sembra un po' che sono la psicologa. Esatto. No, no, zero psicologa. Anzi, se io sono qui a chiedere consigli a voi, perché non so esattamente cosa dovrò affrontare, invece voi mi sembrate che ne avete affrontate tante. Sotto tanti aspetti, no? Abbiamo iniziato subito noi a livello familiare. Ci siamo conosciuti all'età di 19-20 anni, a 22 ci siamo sposati, a 23 arriva Davide, a 26 arriva Leonardo e tra pochi giorni festeggiamo 15 anni di matrimonio. Pazzesco, Robi. Ma sono volati o ti sono pesati? Di la verità, anche se c'è Claudio da mano. Ma allora, sono volati forse perché abbiamo iniziato talmente in fretta, nel momento in cui proprio c'era tanta passione, tanta voglia di fare subito una famiglia, no? Poi, non ti nego che ci sono stati anche momenti più pesanti dove allora lì... Beh, io pensavo di ritrovarmi senza capelli, no? In questo percorso molto veloce è stato. Ma insomma, tu senza capelli, cioè, sono sempre stata io quella che doveva stare da sola, sopportare il fatto che non c'era mai. Quindi, insomma, tu avevi i tuoi momenti di tranquillità, no? Dove ti isolavi nel tuo lavoro. Sì, beh, conta allora, lì Scorpione è un carattere fortissimo. Io sono un capricorno paziente e devo dire che ci siamo trovati. Quando c'è da spingere, soprattutto con i figli, il suo carattere è dominante ed è forte di lei che gestisce tutto. Invece quando sta per esplodere qualcosa, arrivo io che devo un po' calmare le acque. Quindi abbiamo trovato un equilibrio... Faccio fare l'uomo nero, lui. L'altra volta ero in treno a Napoli e ho incontrato questo signore superanziano da solo, che mi diceva, io sto con mia moglie da 60 anni. Ma scusa, ma qual è il segreto per la longevità di una coppia? Cioè, come si fa a stare tutti questi anni insieme? E lui mi ha detto, una volta non vedi, e una volta non senti, e una volta non vedi, e l'altra non senti. E questo è il segreto per stare insieme? Sono d'accordissimo. E questo è il segreto? Assolutamente sì. Aveva ragione il signore che da 60 anni stava... Io sono pienamente d'accordo. Tante volte, secondo me, anche non vedere, non sentire aiuta. Ma non perché bisogna nascondere per forza chissà cosa, ma è meglio non sapere, non sentire e non vedere, no? Sì, secondo me sì. Cioè, nel senso, è importante, a quel punto subentra la fiducia, che poi è quella che ti aiuta a non ascoltare, anche tante cose che ci girano intorno, anche le voci inutili. Io, nel mio caso, stando con lui, che è sempre stato molto esposto, ho cercato di evitare, di ascoltare le notizie, anche quelle stupide, ecco, sì. Allora lasciamo perdere. Poi magari da soli, io e lui in camera, volavano anche i coltelli, eh? Con tante cicatrici. Perché non è che, io non sono una di quelle che ha mostrato le notizie. Soprattutto dietro. Devo ammettere, insomma, tante ragazze, secondo me, anche quando era più giovane, ma anche adesso sei un bel ragazzo, non sto dicendo che adesso non sei un bel ragazzo, Claudio, ovviamente. Qualche colpo l'ha perso, eh? Però, insomma, il calciatore, immagino tutti gli occhi addosso, chissà quante ragazze ci provavano con lui, ma anche quando vi siete conosciuti, quando tu avevi 23 anni, no, 19, hai detto? Eh, 19, 20. Sì, anche se lì forse ti ho fatto tribulare più io, eh? Eh, almeno... Ha fatto lo zerbino per sei mesi. Eh, almeno fino ai 21. Ah. Eh, l'ho fatto tribulare un po'. Poi dopo lui, niente, li aveva tutti lì addosso. Il vostro rapporto è diventato un rapporto adulto da subito, perché già a 23 anni avevate il primo bimbo. Sì, sì. Davide. Mi ha avuto Davide a 23, sì. 23, poi quindi praticamente noi ci siamo sposati a giugno del 2008 e lui l'ha avuto nel 2009, quindi subito dopo. E la vita matrimoniale, noi due, ecco, ce la siamo vissuta poco, perché è arrivato subito il piccolino. Quindi per resistere bisogna vedersi poco per i primi dieci anni. Esatto. E poi dall'undicesimo, un po' più di tempo insieme, vedere che andrà meglio. Poi mi ha tenuto subito impegnata, appunto facendo subito un bambino, no? Sì, esatto. Così io ero un po' dedicata a lui. Eh, perché all'inizio, evidentemente, eri tu mamma a 360 gradi. Sì, devo dire che è stato fondamentale l'aiuto di mia mamma, perché io comunque a 23 anni... Chiediamo dell'importanza delle nonne. Le nonne sono fondamentali. Chiediamo spazio anche alle nonne. Io ho avuto la fortuna di avere mia mamma vicino, perché sei a 23 anni, ti senti pronta, ma non del tutto. Io a 31 non mi sento pronta. Eh, ma ci sta, ci sta. Quando io non c'ero, io a Lecce, per un anno del tempo, comunque lasciavi i tuoi figli ai nonni, no? Quindi i loro nipoti, quindi è importante quella parte di secondo me. Io ricordo sempre mio papà, ero piccolino, eravamo in un albergo in montagna, un signore parlando con mio papà gli chiese Eh, ma tutti questi anni con tua moglie, ma come hai fatto? Perché lui si era separato, risposato e di nuovo separato, no? Ma come mai non hai mai cambiato una donna o quant'altro? Lui fa, guarda, ormai sono talmente tanti anni che lei ha imparato tutti i miei difetti. Io sopporto i suoi. Siamo andati a un equilibrio che, perché devo ricominciare da capo tutto quanto? Ci ho impiegato tutti questi anni che ormai ci siamo smussati gli angoli tutti e due. Quindi alla fine quando poi si parla di famiglia, di amore, di fare un percorso, se non gli dai il tempo è impossibile che ci possa essere, no? Quindi devi essere bravo anche a resistere a tante cose e col tempo poi ti guardi indietro e dici guarda che percorso che abbiamo fatto, no? Perché poi anche la fiducia in sé non è che può esserci all'inizio. All'inizio c'è le famose farfalle nello stomaco, l'amore, con la passione e quant'altro, però poi dopo amore, dentro la parola amore possiamo metterci in mente tante, tante cose che soltanto il tempo te lo può far capire. Io sono alla ricerca della puericoltrice, quindi sono in quella fase devastante della vita dove sto facendo i casting. Perché tanti dicono, ah no, la mamma deve dedicarsi ai 360 gradi solo la mamma, io su quello non sono tanto d'accordo, perché la mamma non deve perdere di vista il fatto comunque che ha anche un marito, no? E tante coppie a volte rischiano di andare in crisi proprio per il fatto dell'annullarsi totalmente per i figli, soprattutto da neonati. E tu non l'hai mai fatto questo errore? No. Su Davide ce l'avamo presi anche un po' uno spavento durante la gravidanza, se ti ricordi, perché durante il test dell'amniocentesi c'era il rischio che fosse, che avesse la sindrome di Down. Da quel test lì era venuto fuori chi poteva essere, avere questo problema della sindrome di Down. E quindi ti fai tutti i film, no? Ti fai film. Con le ecografie ti sembra di vedere proprio qualcosa, no? Ecco lì sì, forse ho avuto un po' paura, ma di non essere in grado a gestire una situazione così. E quindi questa esperienza, diciamo, difficile vi ha unito ancora di più, come l'avete affrontato a quel momento? Anche perché eravate due bambini, a 23 anni. Sì, esatto. No, è stata, diciamo, sono quelle cose che poi ti uniscono anche come coppia. Io mi ero chiuso in bagno, col telefono, perché aspettavo almeno il messaggio, no? E solo che bisognava andare in campo. E io guardavo l'orogio e gli ho detto, ma non mancano due minuti di andare in campo, perché poi lo sai benissimo che se arrivi in campo in ritardo c'è la multa, quant'altro, anche se poi era una situazione che in realtà poi non avevo parlato ancora con nessuno in quel momento. Due minuti prima di andare in campo mi era il messaggio tutto ok, tutto a posto. Io sono uno che la tensione e il nervoso lo tiene tutto dentro, difficilmente riesco a esplodere, tirare fuori tutto. Quella volta lì apro la porta, vado in infermeria, urlo a tutti. Ragazzi, è tutto a posto, tutto a posto. Non gli ho detto niente. Non parlavo di mio figlio, lo dicevo soltanto a tutti, ragazzi è tutto a posto, andiamo ad allenarci, è tutto a posto. Proprio una tensione che hai scaricato. Ti sei tolto di dosso un peso. Anche perché poi a volte mi è capitato anche di parlare di questi argomenti in altre interviste e quant'altro. Io l'ho sempre detto, 23 anni non sarei stato pronto. Invece poi quando è nato Davide? Com'è stata? L'emozione è questa? Preparatemi un po' psicologicamente a questo momento. Non me ne volere, però per una mamma probabilmente ti innamori per la prima volta, no? Cioè è quel batticuore che, scusa eh di nuovo, ma nessun uomo al mondo, scusa eh, però nessuna persona al mondo, nessun amore al mondo può... E lo sei tu il tecla? Vale, è un amore diverso. Per me è un amore diverso. Davide ad agosto compie 14 anni e io lo vedo sempre come quel bambino piccolino che era uscito dalla pancia il 31 agosto e mi ricordo ancora l'emozione che vedi finalmente la sua testolina uscire fuori, il primo pianto e lì subito il dottore fa controlliamo che ci sia tutto? Ma che cavolo? Ma di nuovo, un'altra tensione così perché controllano che si ha tutte le dita e quant'altro. Ma queste cose qua non ti prepara nessuno. È vero, sì. Quindi le vivi tutto in un attimo. E ad oggi che entra nella piena adolescenza il non poterlo più, prenderlo forse in braccio o abbracciarlo, baciarlo che non vuole più, io ci sto male perché lui è stato il primo. Poi ovvio che c'è anche Leonardo che invece è l'energia fatta in persona, che è quello che tiene questo fuoco acceso a casa, è lui che porta tutta questa gioia, questa energia. Però Davide lo vedo sempre come il piccolino, il primo. Vado tanto in tensione quando lo vedo ora giocare in un campo da calcio. Tra l'altro è fortissimo. Lì faccio parlare l'esperto perché io da mamma per me, sai, per le mamme sono sempre più del mondo. Come state gestendo questa cosa? Anzi, come la sta gestendo lui rispetto anche a te, al cognome che porta? Vive delle tensioni importanti, sa di avere gli occhi addosso, sa perché il suo cognome sa quello che poi la gente possa pensare o altro e quindi lui a volte non vuole che ci sia io a prenderlo. Per i compagni? Per i compagni o… O anche forse per il giudizio, no? Per il giudizio, quant'altro. Quindi di regola quando lo vado a vedere, innanzitutto se lo porto lo lascio un bel po' di metri prima del portone perché lui non vuole che mi faccia vedere lì, no? Perché poi sa che quando scende dall'auto tutti lo guardano. Che ruolo gioca? Mezza punta. Mezza punta? Mezza punta. Quando sono in tribuna cerco di mettermi in qualche angolo nascosto che lui non mi veda, però vuole che ci sia. Però non ti devi fare vedere. Però non devo farmi vedere. E qui hai le tue strategie per nasconderti in tribuna? Vado sempre dagli avversari. E mai riesci a trattenerti? Non è facile, però ripeto, sono uno che riesce a un buon equilibrio su queste cose qua. Tante volte io dico, ma sei contento? Ho fatto gol, sei contento? E lui non fa espressioni, niente. Secondo me questa è la domanda delle domande. Tu sei più contento quando facevi un gol tu o quando fa un gol tuo figlio? Che bella domanda. Io posso dire la mia, io quando fago il mio figlio? Perché lì ti giuro. Forse sì, sì. Soprattutto in questa fase del suo percorso calcistico che incomincia già a giocare contro squadre professionistiche e fa dei gol importanti, senti qualcosa qua che in campo non lo sentivi perché tu sei preso dalla tua partita, le tue tensioni, è diverso, sei tu. È il tuo corpo, lo gestisci tu. Qua devi gestire il tuo corpo che sta vedendo delle emozioni forti davanti a te, per di più il tuo figlio, quindi sono emozioni più forti sicuramente. E tu sei pronta, dopo aver fatto tutti questi sacrifici per Claudio, a fare anche i sacrifici per Davide? Ma io devo dire la verità, sì. Perché poi per noi quella è stata un po' una fortuna, no? di godere di quello e quindi lo auguro anche per i miei figli, anche perché loro sullo studio non è che sono proprio predisposti al cento per cento, quindi il piano B in questo momento non lo vedo tanto. Ma anche il piccolo vuole fare il calciatore? Eh, gioca anche lui, sì. Ah sì? Il piccolo è un ultra, la vive in una maniera incredibile, non si può andare a cena fuori se c'è la partita, se lui deve collegarsi nel divano, deve mettersi lì. Deve guardare la partita, cioè non ci si muove se gioca la Juve. Non si parla se ha perso, no, ma ti dico guarda, terribile. Ma quanti anni li avete portati per la prima volta allo stadio a vedere papà? In realtà Davide l'ho portato in nazionale quando era molto piccolo, lui faceva la Confederation Cup con l'Italia. Aveva tre anni. In Polonia? No, 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 in Polonia, l'europeo, aveva tre anni, si è fatto tutto l'europeo con noi, che Mr. Prandelli ci dava la possibilità di portare anche la famiglia nei voli, o anche dormire in albergo. Tra l'altro io avevo Leo di tre mesi, che ho lasciato a casa con la nonna e tutti mi dicevano che mamma snaturata, siamo stati via un mese, quindi io sono stata senza Leo per un mese. E sì, perché arrivamo in finale, quindi era durato un mese. E poi loro erano arrivati in finale, sì. Beh, dopo Italia-Germania, un volo di ritorno, tutti contenti, che festeggiavano in aereo, tutti in piedi, io e lei invece eravamo seduti con Davide qua sdraiato perché aveva la febbra a 40. Claudio è diventato papà a 23, ma ha capito di essere papà davvero a quanti anni? Dopo. Ora. Cos'era? Oggi è? Mercoledì? Tre giorni fa. Guarda, il Covid, uno dei momenti penso più difficili per il mondo intero. Noi chiusi in casa è stato forse uno dei momenti più belli della mia vita perché ho incominciato forse a conoscere veramente i miei figli. È vero che erano cresciuti, hai un dialogo diverso, quant'altro però stare H24, tutti quei giorni non mi era mai successo da quando erano nati. Davide a 23 anni, fino all'età di 33 anni praticamente ogni due giorni ero in ritiro, ero a prendere un aereo, ero da qualche parte, quindi tornavo alla sera molto tardi, a noi ci capitavano spesso i posticipi, quindi fino all'uno e mezza, alle due di notte, quando eri in casa, le trasferte eravamo anche alle 4, alle 5, alla mattina dormivano, li portavo a scuola perché poi il pomeriggio avevo allenamento, quindi proprio poco tempo insieme. Invece durante il Covid, quei 30, 60 giorni, tutti i giorni insieme ho incominciato a conoscere il carattere dei miei figli, che prima pensavo di conoscerlo, invece no. È capitata una letterina natale dell'anno prima dove Davide aveva scritto, riferendosi a lei, ma in realtà era per me, perché aveva paura di scrivere il nome del papà. Cosa diceva? Sì, che vorrei che tipo papà mi volesse più bene. Mi volesse più bene, pensando il fatto che magari, non lo so, non vedendolo tanto, lui non c'era poco, non aveva questo rapporto. E poi l'anno dopo infatti io ho scoperto e ci siamo conosciuti di più, perché stavamo sempre insieme, quindi io con il periodo lì non ti dico che ho capito di essere papà lì, però è stato un momento importante nel rapporto con i miei figli. Come l'hai presa con la lettera? Ti è venuto da piangere? Ci rimasi male. Io sono uno che difficilmente riesco a esprimere le mie emozioni, no? Infatti molte volte cosa succede? Io quando parto per i viaggi scrivo delle lettere e le lascio ai miei figli, a lei, perché con la penna riesco a tirare fuori quello che ho dentro. Però è una mancanza. E quindi con la lettera lì però mi ha aperto gli occhi di sforzarmi di più ad avere quel dialogo con i propri figli. E quindi a volte sono i figli che ti fanno diventare grande papà. Sì, qui sono stati loro praticamente per sentire papà. Piano piano sì. Siete cresciuti insieme e state crescendo insieme? Io ho una foto a casa di quando è nato Davide, eravamo poi in nazionale neanche due giorni dopo, c'era Italia-Bulgaria e c'era Lippi che mi guarda e fa mamma mia, te sei piccolo. Questo bambino in braccio. Con un bambino piccolino così in braccio, io ero 50 kg bagnato a 23 anni. Vuoi una mano? Vuoi una mano, ti aiuto. Eppure ero lì in nazionale. Però sai anche lì il calcio… Perché gli hai risposto a Lippi? No, ero diventato rosso, rosso in faccia e non gli dicevo niente. Tu sei matto, così giovane, già con un figlio in braccio, stai iniziando ora. Però forse anche l'essere un personaggio pubblico nel calcio così giovane ti fa crescere in fretta perché hai tanti occhi addosso, tante pressioni, tante responsabilità per il tuo lavoro che secondo me ti fanno crescere in fretta anche in quell'aspetto lì. E quindi mi ha dato una mano sicuramente e idem a lei perché poi vivendo insieme, vivendo quel mondo lì, quella bolla, per forza di cose cresci in fretta. Ma ti piacerebbe averne, vi piacerebbe averne un altro adesso che siete più grandi? Lui sì, è dato un tempo. Io sono anni che provo a… No, perché eravate molto giovani per entrambi le gravidanze. Sì, infatti abbiamo fatto l'errore però di non farlo subito. Non lasciatemi da sole in questo nuovo viaggio. Fatemi compagnia. Hai bisogno di un po' di coppia. Dai sì, così faccio qualche vacanza. Però dire, guarda, io devo farlo prima perché adesso il grande è troppo grande. Sono passati troppi anni adesso per ricominciare. Non ho voglia. Mi godo la nipotina perché io ho mia sorella una femmina e anche sua sorella una femmina mi godo le nipotine. Sì, io credo che sei super legata con questa nipotina. Sì, sì. Sofia, giusto? Sofia, Sofia, che per me è un po' la femmina che non ho avuto e quindi mi godo lei e mi consolo il fatto che ho lei. Però magari un giorno… Non sento la necessità adesso. Guarda, è un periodo di femmine. Io sento tutte le mie amiche tutte incinte, tutte femmine. Quello sì. Magari è un momento buono. Però io ecco sono per… Io che spingo a fare figli. Sì, dai, riproduciamoci amici. Poi adesso finalmente che posso starli dietro e seguirlo come si deve perché i ragazzi sono grandi e lui per quello forse vuol farmi fare il terzo. Così c'è ancora un po' di libertà, capito? Sì, sì. E io no. Adesso basta. Adesso dico stop. Beh, il grande Davide è nella fase adolescenziale però. Esatto. C'è quella fase un po'… Infatti quella cosa lì anche mi frena. Come la state vivendo? Cioè da mamma e da papà quella fase lì che vuole uscire quando mi scotete? Ogni giorno è un'esperienza. Sì. Una mattina ti risponde ciao papà come stai e la mattina dopo pensa che si… Ah sì, eh? Uno sconosciuto. Poi… Ma è normale. Poi adesso è arrivato il momento social. Ah. Terribile. È su Instagram. Sì, da poco tra l'altro. Sì, l'avete dato. Forse neanche un mese, no? Sì, sì, neanche un mese. E io non ti nego che… E lo controlli. Lui no, lui non tanto. Io poco in realtà, ma perché la vivono forse in maniera diversa. Almeno vedo molti ragazzi dalla sua età, compagni, che lo usano più per scriversi in privato, in direct, più che postare qualcosa. Perché per esempio hai social ma non vuole che gli fai una foto. Non vuole che lo riprendi in un video. Però lo usa per rimanere in contatto con le persone. Sì, però a me spaventa un po'. Perché io comunque, io invece lo seguo parecchio. Seguo proprio tutto quello che scrive, quello che… perché non sai mai poi chi c'è dall'altra parte adesso, no? Quindi finché sono i suoi amici, le sue amiche, va bene. Però poi magari gli scrivo anche delle persone sbagliate. E quindi hai il controllo di Instagram? Cioè riesci ad entrare, a guardarlo? Dipende se posso dirlo, ma vorrei che poi Davide mi senta in questo intervento. Non gliela facciamo vedere. No, questo pezzo poi magari… Lo tagliamo. Esatto, tagliamo. Vabbè sì, comunque sì. Ci sono altri pericoli, sicuramente forse più nascosti, che non si vedono. Io da ragazzino ero sempre in mezzo alla strada a giocare. Attraversavo la strada non so quante volte al giorno con le macchine passavano. Quello avrei già paura. Quella libertà lì a mio figlio avrei paura a fargliela fare. Perché io ero veramente libero di andare ovunque, con la bicicletta ovunque. Li vedo forse ancora pericoli più reali rispetto a questi. Ma questi sono reali anche questi, solo che sono nascosti. In discoteca ci vuole già andare o ancora no? Ma stranamente no, però va già alle festicciole in casa, degli amici. Sì, sì, sì. Però gli ho sempre inculcato la cosa che giustamente giocando a casa, ha questa passione dei sacrifici da fare. Cioè vai quando puoi andare. Se il giorno dopo è una partita alla mattina, non puoi andare a una festa. Ecco, lì se lui è un po' più bacchettone. Io lì controllo un po' di più io con la parte lì. Però devo dire che… Gli viene automatico. Sì, sì, sì. Alla testa a posto. Sì, ha molta testa, sì. Anche troppo rigido forse a volte. E Cristiano Ronaldo è mafiaturico praticamente. Ma gli viene naturale. Viene l'alse a volte quando lo vedo un po'. Cioè lo vedi che lo fa perché gli piace farlo e non lo fa perché per fare questa strada devo fare quello e quindi si obbliga a seguire una strada. È proprio automatico. Quindi lo fa con naturalezza. Quindi non gli pesa. Che è quello importante. Non so se siete pronti alle domande scomode. Sì, dai. Perché fino ad adesso sono state comodissime, no? Per comfort. Adesso invece in questa meravigliosa bolla, amici, potete pescare. Perfetto. Una testa? Un po' di domande scomode. Vai, sì, una testa. Sì, sì. Cosa speri che tuo figlio non scopra mai di te? Non lo so. Perché veramente. Tanto se la dico, quindi poi la scopre. Quello scopre. Hai capito? Noi facciamo sempre i discorsi ai nostri figli. Prima ho detto che bisogna provare tutto. Provare più cose per poi capire gli errori, no? Una cosa che non racconterei a mio figlio è che da ragazzino ho provato delle certe droghe e mi sono reso conto dell'errore e poi non l'ho mai più fatta. Che la canna, quelle cose lì. Non avrei il coraggio di dirglielo. Quindi spero non la scopre questa cosa qua. E se lo facesse lui? Eh, spero che poi capisca l'errore. Almeno a me è capitato così, di star male e quindi... Poi hai capito l'errore e non l'hai più fatto. Non l'ho più fatto. Quindi avresti comunque, ecco, anche da persona giovane come sei, capiresti insomma che può essere una cosa che può succedere. Eh sì, tipo a me è capitato di farmi questa canna a 16 anni, sono stato malissimo, ma male, male, vomitando, stando male. Ad oggi, a me è capitato anche quest'anno, sono andato ad Amsterdam per una partita, abbiamo fatto il giro ad Amsterdam, l'odore soltanto mi faceva star di nuovo male. Ti stascia a stare male. Quindi a me è capitata così, mi è andata bene. Però se glielo racconti è meglio. Infatti, anche se io sono più per raccontarlo. Non lo so. Io ho una domanda che preferivo non aprire, però vabbè. L'è aperta? Sesso? Esatto, cioè, preservativi proprio. Chi e come affronta l'argomento? Di chi è l'argomento, diciamo, relativo a qui? L'esame io, perché lui è quello più chiuso, vedi? No, ma secondo me dopo… Vai ai ragazzi? Sì. Eh sì, penso di sì. No, 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 ne parlerei anche io sicuramente. Assolutamente, assolutamente. Però loro secondo me sono un po' più timidi con lui su quell'aspetto lì, soprattutto adesso parlo del grande perché il piccolo ancora a 11 anni non siamo ancora arrivati, mentre il grande è già un po' in quella fase lì, no? O sta iniziando ad essere in quella fase lì. E con lui è molto timido su quell'aspetto lì. Cioè io sono quella che racconta, mi piace quella ragazzina lì. Si confida sicuramente più con lei. Mamma, guarda, ti piace quella ragazza che a me piace molto, mi chiede cose, consigli. Quindi è probabile che arriveremo poi anche a questa domanda qua, però per adesso ancora non fortuna. Siamo lì, mi sa, eh. Sai che ci siamo. Se ci penso mi… Ti mi lancia. Eh, un po' sì. Ti credo. Sinceramente sì. Perché poi il maschietto per la mamma, la femminuccia probabilmente ha anche, forse ancora di più, però il maschietto lo vedi sempre, no, da proteggere verso le donne. Ma non perché poi per carità ci può trovare benissimo… Ma saresti gelosa? Eh, un pochino forse sì. Lui mi guarda… Ancora non ha mai avuto una fidanzata. Io sono curioso. Sai, ho due maschi. No, però io già dici cosa succede. Già adesso tipo su Instagram, no, quando vedo che gli scrivono le ragazzine, anche più grandi, mi viene un po' il nervoso. Ahà. Ma è un senso buono, no? Sì. Perché dico, ma è possibile che già gli scrivono queste cose. Tu già su Ashera comunque. Allora vado lì a cercarmi chi è, come non è. Sì, sì. Vado sul profilo. Il padre, il padre. Viene proprio così. L'albero genealogico. Cioè, non so. Adesso vedi quanto è diventata importante anche la scuola, che adesso torna da un torneo tardi, e quindi a volte gli diamo il permesso di rimanere a casa il giorno dopo. Adesso, quest'anno qua, è il periodo che invece a scuola non si può saltare, perché a scuola sei nella fase… Sì, della fidanzatina o comunque quella che ti piace. E quindi va lo stesso. Va sempre. Non perde un giorno. Vedi che ci sono gli aspetti positivi. Ci sono gli aspetti positivi. Peccato che va per quello, non per studiare, però. A chi non affideresti mai tuo figlio? Deve essere divertente. A chi non affideresti mai tuo figlio. Potevo fare la battuta a tuo fratello, ma sta per diventare papà anche lui. Sto per diventare papà anche lui, poverino. Quindi… No, a me se lui è bravissimo, è super protettivo. Sembra anche con le tue nipotine, no? A me mi ha rovinato l'adolescenza lui, per esempio. Cioè, io non avevo un padre geloso, avevo un fratello geloso. Quindi, secondo me, se doveste avere una bimba, sarebbe molto bello avere dei fratelli più grandi. Quello è vero. Infatti, quello è l'aspetto che mi piacerebbe tantissimo. Mi ricordo una volta volevo andare in discoteca, avrò avuto 16 anni, e ho chiesto a mio fratello di accompagnarmi. Gli ho detto, dai Mirko, accompagnami tu così, mamma, papà, sono tranquilli. Sì, 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 sì. Arriva la mia amica, entrava in macchina. Prima di arrivare in discoteca ci strappa tutte le calze, così, e siamo dovute ritornare a casa. Perché non volevo? E nella mia cameretta mi sono scritta discoteca e ci siamo messi a ballare in camera. Ma una delle cose più tristi della mia vita è perché lui mi ha rovinato un po' l'adolescenza. Quindi non so, io gliela affiderei comunque. Gliela affidiamo a lui allora, dai. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Sì, sì, lì è protetto. Sesso in gravidanza, sì o no? Sì, ovviamente. Sì? Sesso sempre. Sì, sempre no. Perché ci sono, soprattutto alla fine dove ti senti una balena spiaggiata. No. No, no, sempre. Va bene. Sì, sempre. Non c'è quel momento che sei un po' da papà intendo, da uomo, che può farti un po' impressione, vedere il corpo che cambia, immaginare… Ve l'ho sempre detto, una donna quando è in gravidanza è bellissima, sempre. Sì, eh. Tanto, secondo me è tanto sensuale una donna. Poi è ovvio che c'è il momento che lei si vede distrutta, quant'altro. Così c'è un po' paranoia noi. Però secondo me la donna incinta è bellissima. Probabilmente tu in quel periodo l'hai veramente innamorato, perché… Poi post-gravidanza praticamente invece tutto… Post-gravidanza mi è andata bene, poi ho fatto un quarto cesareo, a volte fisicamente ci sono delle donne che soffrono per altri problemi quando fanno i partiti naturali, diventa poi difficile anche lì, quel momento lì. Io anche un po' per quello avevo fatto la scelta di fare il quarto cesareo. Tu hai scelto? Io penso che farò il cesareo. Ecco, secondo me è un'ottima cosa. Però tante mi consigliano di fare il naturale. No, io no. Io sarò una di quelli che ti consiglia di fare il cesareo. Io l'ho vissuto da Dio, ho vissuto il momento come una qualsiasi donna che ha fatto il parto naturale. Sono stata benissimo. Avevo una bravissima ginecologa, quello aiuta sicuramente. È stata molto delicata anche sul taglio e tutto quanto. Sono guarita subito. La sera mi sono svegliata, mi sono alzata dal letto. Quindi sono contenta di fare il cesareo. Ma come l'allattamento. Secondo me non tutte sono predisposte, no? Certo. E non bisogna farsene una colpa. Brava, è giusto dirlo questo. Perché spesso magari non lo dicono, tante mamme questa cosa non lo dicono. Io ero all'inizio, quando avevo deciso di non allattare Leo, ma cosa fai? Ma il latte materno è fondamentale. Le nonne lì. Le nonne lì. Capirai. Poi tutte e due da buone siciliane. Io c'ho sia la mamma che la suoccia, la siciliana. Ah, ecco. Quindi loro erano molto predisposte a questa cosa, no? Dell'allattamento. Dell'allattamento. Che è una cosa bellissima se la vivi con quella serenità lì. Certo. Diventa però un disastro se poi non la vivi in maniera serena. Sentite, cos'è la cosa più difficile e la cosa più bella invece che mi capiterà da qui a breve? Ma sempre sul discorso maternità, figli. Sicuramente non avrai più la libertà a 360 gradi che hai sino ad oggi. Sei una donna che è in carriera, che lavora, che si sposta molto, giovane. Quindi sicuramente quello, la tua prima priorità sarà, per forza di cosa, quella piccolina lì. Quindi quello lì secondo me ti cambierà tanto. Prima, secondo me ad oggi, programmavi la tua vita per te stessa. E lì non sarà più così. Anche gli agi così, last second. Quello sì. Sicuramente quello. Una cosa che secondo me nessun genitore si scorda è il profumo, l'odore di tuo figlio quando è piccolino. Sono gli annusi sempre. È fantastico. Avrai meno tempo per te stessa magari. Però ecco, io quello invece non lo perderei mai di vista, il fatto di ritagliarci sempre i nostri spazi. O col partner, o comunque per noi stesse. Non so, perché secondo me poi una mamma serena, realizzata o comunque indipendente, anche di voler fare le cose che comunque hai sempre fatto, ti dà modo di essere serena. Poi anche con i figli. Invece sono quelle mamme che le vedi sempre nervose, tristi, perché probabilmente si dedicano poco a loro stesse. Quindi comunque vedrai che se ce l'hai già di tuo non lo devi perdere di vista perché… Non vedo l'ora di leggere i commenti di queste mamme nervose che le diranno… Sì, perché io ne conosco tante, che dico ma mollate sti figli se dovete essere così esauriti, no? Quante denunce hai? E la cosa bella che mi capiterà? Eh, la cosa bella che ti capiterà è quando magari ti dirà la prima volta mamma, o sì, poi comincerà a parlare, quindi o ti comincerà a guardare, perché poi all'inizio sai, i neonati non ti guardano, non ti vedono ancora bene, no? Quando invece poi ti sorridono e ti cominciano a riconoscere, è una cosa pazzesca. Ti sciogli. Sì. Beh, non so se sia un'altra cosa bella, ma importante che ti accorgerai di quante energie… In più hai. In più hai. Sì. Già solo la notte che hai la paura che non stia respirando, quindi te ne stai lì sveglio, no? Eppure la mattina poi ti alzi, ti svegli e inizia la giornata, e tu invece sei sempre incredibile. Ti escono fuori delle energie che pensavi di non avere. Le prime notti, però… Però sei stato fortunato, Davide non ha avuto grossi problemi. Leonardo un po' di più. Sì, è vero. Davide che dormiva tanto. Davide non ci ha dato grossi problemi. Però se dovessi avere un altro figlio prometti che ti svegli tutte le notti? Ma il mio problema è… Poi ci sentiamo nel caso, eh. No, io alla notte non ho, sono già uno che dorme poco, quindi… Sì, lui piace andare a letto tardi, è vero, però poi una volta che dormi non ti svegliano neanche i cannoni, quindi voglio vedere. Vedremo, vedremo se questa battaglia la riuscirà a vincere. Direi che noi abbiamo dato. Vediamo di vincere questa partita, ragazzi. Ma adesso, falle tu le notti, noi abbiamo dato. Io, però, non si sa mai, magari prossima stagione di mamma dilettante, torni qui, Robby, con… Ma tanto, tra un po' faremo le notti in un altro modo, perché usciranno alla sera e tu… Ma capito, io già lo so quello, alla fine… Alla fine non dormi mai. La mia paura è anche lì, quindi che tra un po' non dormirò più veramente, perché poi all'inizio si era… non dormire per una cosa normale, no? Anche perché quella poi la recupero io. Invece dopo sarà un non dormire perché hai l'ansia che possa succedere qualcosa. Devo andare in discoteca con loro, perché Davide, quando avrò 41 anni, lui avrà già la macchina, andremo in giro insieme. Lui la dice sempre, questa cosa, e vedrai che succederà. Ci divertiremo un po'. Grazie, ragazzi, siete stati super, veramente. E buona fortuna per tutto. Grazie mille, grazie. Sono quasi pronta a diventare un supereroe come voi, siete due supereroi. E che supereroi. Ah no, perché avrò più energie, quindi… Esatto, quello sì. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.